Buongiorno FTI Online, avvio in certo questa mattina per la borsa, il Fuzzimib in questo momento è in cao dello 0,32%, siamo a 18.290 punti circa, ma ha anche toccato un massimo in avvio a 18.440, quindi a di sopra dei massimi di ieri. Dopo 6 giornate consecutive di rialzo, tuttavia è difficile che l'indice possa proseguire la via della crescita senza prima andare in conto ad una fase correttiva, la resistenza più significativa in questa fase si posiziona intorno ai 18.500 punti, improbabile che venga violata fin da subito, più probabile invece o un ritorno sulla base del gap di ieri, già toccato poi alla fine seduta sui 18.000 punti o addirittura discese fino alle 17.750. Tra i mercati più interessanti in questo momento c'è sicuramente quello dell'oro, che anche nella seduta di ieri ha dato segnali di risveglio, da seguire con attenzione il movimento che si sta disegnando nelle ultime settimane, che come vediamo viene contenuto da una figura di forma triangolare, una figura di questo tipo di norma anticipa la ripresa del trend rialzista e si colloca più o meno a metà del movimento totale, quindi se andiamo a guardare quello che è successo all'oro nel corso dell'ultimo trimestre, vediamo un rialzo partito dai minimi del dicembre 2015 a 1.045 dollari circa, se i prezzi riusciranno a superare la parte alta di questo triangolo, di questo pennone e che si colloca come resistenza a 1.247 dollari circa, ci sarà una concreta possibilità di assistere ad un'ulteriore fase crescente che avrebbe come ampiezza potenziale quella che lo strumento ha già disegnato dai minimi di fino a 2015, è quindi ipotizzabile un target fino a 1.400 dollari di riloncia circa, evidentemente prima di arrivare su quei livelli il mercato dovrà superare resistenze importanti, come ad esempio quella del gennaio dello scorso anno a 1.306 dollari o dei massimi del luglio del 2014 a 1.331 dollari, ma al di sopra del 1.250 riteniamo che si possono in ogni caso aprire notevoli spazi di crescita da sfruttare già anche per il breve termine. La violazione invece della base di questa figura triangolare, che attualmente si colloca intorno ai 1.220 dollari, poteva anticipare un nuovo test dall'alto dei massimi dello scorso ottobre, che si posizionano a 1.190 dollari circa e che sono già stati toccati dall'alto con la flessione che era terminata il 16 febbraio. Anche in termini di quotazione contro l'euro l'oro si sta comportando molto bene, è evidente in questo caso un trend rialzista ininterrotto dai minimi dello scorso dicembre ed è probabile che questa tendenza continui fino ad arrivare a interessare i massimi del gennaio 2015 a 1.168 euro circa. Situazione da seguire con attenzione anche per l'euro-dollaro, come sappiamo le quotazioni dell'oro sono collegate inversamente a quelle del cambio euro-dollaro. C'è stata recentemente la violazione di questa linea di tendenza che sale ai minimi di dicembre, quindi un segnale di forza per la moneta americana che temporaneamente è stato corretto da una fase di ritorno proprio sulla linea di tendenza. la tendenza, il trend di fondo tuttavia in questa fase sembra favorevole alla moneta USA, pur essendo inserito nell'ambito di un'ampia fase laterale, il mercato infatti potrebbe decidere a questo punto di tornare verso la base del trading range, quindi verso area 1.05.50, prima di dedicarsi nuovamente alla ripresa del rialzo. Solo in caso di un superamento di area 1.11, la tendenza tornerebbe ad essere favorevole alla moneta unica e in quel caso diverrebbe probabile un ritorno nella parte alta del trading range che abbiamo disegnato verso 1.14.50. Per il momento quindi saremmo favorevoli a posizione long di dollari con un target a 1.05.50 uno stop e attivare subito di sopra di 1.11. Ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a lunedì con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie.